Mi occupo delle rappresentazioni della professione medica nella fiction televisiva italiana e americana dagli anni 80 ad oggi e cerco di capire se e in che modo la fruizione di questi prodotti televisivi di largo consumo può aver influito sugli approccio dei non specialisti all'ambiente medico. In particolare la mia ipotesi è che i telespettatori assidui di queste fiction utilizzino materiali presi in prestito da questi programmi per aiutarsi a narrare le proprie esperienze di malattia ad affrontare l'ospedale come luogo fisico e in particolare penso che si siano verificate delle modificazioni nel rapporto medico paziente. Questo anche perché ovviamente i medici reagiscono di fronte ad un paziente più informato e è interessante capire in che modo questo rapporto che si basava su una simmetria e un'autorevolezza da parte dello specialista viene mutato. È bello fare ricerca perché è una scommessa continua e una sfida costante col proprio intuito, la propria capacità di leggere il mondo e perché credo che la produzione del sapere e la circolazione di questo sapere siano il primo passo per un'azione sul mondo. Grazie. 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 Grazie.